Per la Betaland Capodorlando è tempo di pensare al campionato. Domenica alle 18 arriverà al Palasicheli Archivi la Virtus Segafredo Bologna e visto il momento di difficoltà la società di Via Beppe Alfano inizia a muoversi sul mercato. È arrivata infatti in mattinata l'ufficialità della firma del giocatore Luca Campani che sarà già a disposizione di coach di Carlo per la gara di domenica. Il lungo italiano di 2,8 metri, classe 1990, si allena già da una settimana agli ordini di coach di Carlo e dello staff tecnico e vanta esperienze nel massimo campionato con Montegranaro, Cremona e Varese facendo registrare 6,6 punti e 3,6 rimbalzi di media. Campani esordirà proprio domenica contro una Virtus Bologna priva dello squalificato Alessandro Gentile in seguito alla rissa di domenica scorsa nella gara contro Trento. L'assistant coach Nicola Brienza, intervenuto ieri sera nella trasmissione Terzo Tempo ha parlato delle importanti sfide ai casalinghe che attendono l'Orlandina. Come giustamente ha detto Pepe Sindoni nel post partita di Tenerife non dobbiamo fare l'errore di abbatterci e poi di trasmettere sensazioni negative e quindi in primis ai nostri tifosi ma poi anche alla società, ai dirigenti, a tutti quanti. quindi dobbiamo essere bravi comunque a provare a fare qualcosa, andare avanti, a provare a fare delle prestazioni importanti però ecco ripeto la squadra va, ci dà e si può dire tutto di questa squadra tranne che i ragazzi non abbiano ben chiaro qual è l'obiettivo finale. Ovviamente sappiamo che adesso abbiamo due partite importantissime in casa, Bologna e Reggio Emilia e andare ovviamente a Milano in trasferta però adesso ci focalizziamo su queste due in casa e riuscire a fare il colpo con entrambe sarebbe proprio fondamentale per quello che è il proseguo della nostra stagione. Per il suo rilancio la squadra paladina vuole puntare sull'apporto del proprio pubblico. Nella giornata di oggi si potrà usufruire della promozione tutti per capo acquistando esclusivamente presso la sede dell'Orlandina Basket i biglietti per la gara di domenica contro la Segafredo Virtus Bologna. Il settore gradinata sarà acquistabile a soli 5 euro e un biglietto per la Tribuna Alta a soli 10 euro.